Sono partiti finalmente i lavori all'ex AGIP, oggi proprio la ditta che si è giudicata all'appalto ha iniziato a fare tutto quello che è un sondaggio, quindi dei rilievi, sia per definire la quota su cui lavorare poi la piazza e nello stesso tempo per andare a definire anche i perimetri. Successivamente questo, questa è un'attività propedeutica poi alla lavorazione del terreno, noi andremo avanti rispettando quelle che sono state le prescrizioni date dalla soprintendenza che ci ha chiesto di ripristinare la fontana nello stesso punto originale dove era collocata con i giardini di Renzi e di modificare quelli che sono alcuni, l'asse diciamo del braccio delle perpendicolari e quindi che siano con la stessa direzione dell'edificio che naturalmente del corridone esistente che abbiamo già modificato. Nello stesso tempo ci ha chiesto di mantenere la pavimentazione non a ritaglio ma uniforme su tutta la piazza e di mettere a dimora delle alberature che diciamo dialogano con quello che invece è il via Montegrappe e il via Legramci dove oggi ci sono dei platani e delle roverelle. Ricordiamo che quelli che sono platani e roverelle sono piante che in questo momento soprattutto i platani stanno subendo, vivendo un periodo un po' difficile con quello che è la malattia del cancro colorato che ci ha visto poi abbatterne alcuni quindi cercheremo di concertare la specie migliore da mettere a dimora e nello stesso tempo ci ha chiesto anche di togliere quell'elemento, quell'opera d'arte distintiva che noi avevamo messo naturalmente mettendo la fontana avevamo messo al vertice di quest'area e che portava il simbolo della città ma possiamo tranquillamente farne a meno perché a questo punto la fontana andrà a ricaratterizzare quest'area. E' chiaro che questi lavori, nell'ordine dei lavori, tempo permettendo, dovranno svolgersi entro sei mesi per cui per l'estate sarà uno spazio pronto, pronto al meglio di attraversamento, in sicurezza e con tutta una nuova qualità che non è una pannellatura che oggi naturalmente gli fa da perimetro. Questo assessore comporterà anche una modifica nel piano economico del progetto? Al momento no, al momento stiamo cercando di rientrare all'interno di quello che è un budget di spesa. E' chiaro che ad oggi lo spostamento della fontana lo faremo naturalmente osservare da un restauratore perché lo spostamento può pregiudicare poi la fontana stessa. Quindi qualora il restauratore ci dicesse che non sarà possibile, sottoporremo alla sovrintendente la necessità di realizzarne una nuova e che sia rispondente a tutti gli effetti a quella che era nell'originale.